un ladro, sono tutti quegli stereotipi che noi identifichiamo con un nome quale ad esempio può essere la folla, noi non ci ricordiamo della folla se non conosciamo le persone che stanno all'interno della folla per noi quindi le ombre passeranno davanti a noi e il loro ricordo resterà solo un'ombra questo è Shapesful Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti